Intervista al migliore in campo Luca Rosiello, Sampdoria contro White Lion, finita 2-1 per Sampdoria, ottima prestazione di Rosiello. Non mai la prestazione anche di Conte che ha fatto una giocata, che cos'era? Brusilì quella cosa? Era buona, era buona a volo hai fatto. Luca, ciao! E lei sia a volte il migliore in campo, sei ormai uno dei giocatori più forti del torneo. Qualcosa da dire? Sono contentissimo di aver vinto, finalmente l'abbiamo attirato con un paio di brutte prestazioni. Siamo riusciti a vincere, prima metà abbiamo sudato un po', però ci siamo mangiati pure un bel po'. Un paio di gol ho visto che più di tutti si è mangiato, però hai fatto un paio di tiri da centrocampo, un paio di dribbling. Un paio di centrocampo mi è andato, però non ho detto che mi è andato. Complimenti Luca, ci vediamo martedì prossimo, un bocco a Luca per sempre la solita frase che dico per il proseguimento del torneo. Un saluto da Max, Rosiello e a tutti i ragazzi. Grazie, ciao!